Siamo qui con Marco Baraccino della Longobarda, insomma oggi derby, è arrivata la vittoria per 2 a 0, una grande soddisfazione oltre alla tua grande prestazione. Grazie mille, è stata veramente una grande partita, una bella emozione. Per me è il primo derby, prima stagione con la Longobarda, mi sono trovato con un gruppo di ragazzi fenomenali, mi ero accolto subito con grande affetto e mi sono integrato nel giro di poche settimane. Abbiamo iniziato con una vittoria, poi un pareggio, sono arrivate altre due vittorie di fila e continueremo su questo passo cercando di vincerle tutte, l'obiettivo è vincere il campionato ovviamente. Oggi vi siete presentati con un 3-3-3-1, un modulo super offensivo con tanto tanto pressing, è stata questa la chiave della vittoria? Sicuramente siamo partiti con questo modulo per cercare di trovare subito il gol e in effetti subito dopo è arrivato, subito dopo ci siamo messi a 4 difesa, abbiamo amministrato un po' la partita, è arrivato il secondo gol e poi l'abbiamo chiusa così, è stata una bella partita, ce l'ha meritata. Oggi è stato tutto positivo, ti chiedo, l'anno scorso è arrivato il secondo posto dopo tanti anni di vittorie, ti chiedo se quest'anno è ritornata quella fame che serve alla Longobarda per vincere? Assolutamente sì, la Longobarda è abituata a vincere, l'anno scorso è stato un anno così ma quest'anno l'obiettivo è solamente vincere. Perfetto, ti ringrazio, è stato gentilissimo. Grazie mille a te, a voi, ciao, grazie.